Cosa si aspetta dall'intervento del suo avvocato che parlerà dopo il PM, toccherà il suo avvocato? Sì, ma sai che l'avvocato Pacelli è un ottimo avvocato, di sicuro lui riuscirà a dimostrare la colpevolezza di Amanda. Cosa si aspetta alla fine da questo processo proprio riguardo alla calugna di cui lei è stata vittima? Sì, sì, mi aspetta la condanna di Amanda e questo sono convinto che è una certezza.